Mercoledì 19 aprile 2017 si è tenuto presso il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, all'interno della rassegna alla filosofia intero della scienza, il convegno Gradienti e Dinamica della Terra. Sono intervenuti Carlo Doioni e Rosanna Bocuicchio. Oggi abbiamo parlato di gradienti, gradienti che controllano la dinamica della Terra ma che controllano anche la vita di tutti i giorni, da quello che succede tra i popoli, da come si muovono le popolazioni, da quello che succede in una società, i gradienti socio-economici, i gradienti culturali, i gradienti di pressione e temperatura che in qualche modo controllano tutto quello che avviene anche a livello fisico sulla Terra. Quindi è un elemento, un comune denominatore che in qualche modo lega tutti gli avvenimenti che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni. I terremoti sono dissipazione di gradienti di pressione che può essere energia gravitazionale o energia elastica e in entrambi i casi comunque sono dei gradienti che si accumulano per esempio in secoli e che vengono dissipati in pochi secondi. Sono dei gradienti di pressione che raggiungono delle condizioni limite oltre le quali la crosta terrestre non è più in grado di sostenerli e quindi rilascia questa energia e viene canalizzata appunto lungo quelle che vengono chiamate faglie e queste guide meccaniche sono quelle che rilasciano le onde elastiche che producono i terremoti. Grazie.